Ciao a tutti ragazzi, sono Candy e benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite E oggi ci troviamo finalmente sul nuovo aggiornamento con tutti i fantasmi, gli zombie E diciamo che molti si sono lamentati di questo aggiornamento perché pensano che il gioco si è cambiato troppo, così è più difficile Personalmente sono super contento, sapete bene tutti quanti che adoro Halloween, ormai non è un segreto Ma oltre a questo è un gioco, quindi è giusto che ci si diverta anche con gli zombie Se si perde la partita fa niente, voglio dire, puoi essere arrabbiato per i primi 5 minuti Ma non prendiamocela con il gioco perché fa degli aggiornamenti carini e ha queste pensate per Halloween Comunque, oggi ho proprio voglia di vittoria reale Come avete visto nello scorso video ho cambiato la mappa, l'ho messa in italiano, non so cosa stia succedendo qua L'isola si è rotta in tre isole e si vede il cubo nella mappa E io direi di buttarmi a... dove ci buttiamo? Ci buttiamo a rapida, anche se è un pochettino tardi E siamo molto molto distanti da tutto il resto della mappa perché nessuno si butterà fino alla sotto Secondo me, ecco Guardate quanto è bella la nuova mappa Tutta buia, tetra e spaventosa per Halloween Oh mio dio, io adoro questi tipi di aggiornamenti ragazzi Hanno fatto veramente un ottimo lavoro, secondo me Certo, è vero, è più difficile riuscire a vedere i player Magari a volte gli zombie ti danno fastidio perché stai combattendo e ti vengono a dar fastidio O devi rianimare un tuo amico e ti rompono tutto quanto la costruzione Sì, è un pochettino più complicato giocare Ma il bello è proprio questo Dai, ci troviamo ad Halloween, è giusto che aggiungano gli zombie, giusto? Cessa, cessa delle mie brame Conterrai qualcosa di buono? Ma è un medkit Diciamo che adesso sono un pochettino... Se ne trovano un pochettino troppi i medkit Proprio perché ammazzando gli zombie te ne escono a valanghe Dammi degli scudini Vabbè, non ce n'è bisogno Abbiamo due scuri grandi Adesso me li bevo tutti e due Torniamo immediatamente full Tra l'altro Uh, la save si sta chiudendo proprio qua Perfetto Mi sono svegliato da poco E quindi spero di poter fare comunque una bella partita Nonostante io sia ancora un pochetto addormentato Però confido in voi Confido che voi abbiate già lasciato tutti quanti un bel mi piace Che mi dà la grinta e la carica di ammazzare tutti quanti i miei nemici Che c'abbiamo là C'è un fucile silenziato viola Lo prenderei molto volentieri Tra l'altro Spesso nei video mi capita di non vedere per esempio un loot Ecco, c'è un fucile per terra C'è una cosa migliore per terra Non la vedo e non la prendo Come per esempio questo Questo non lo prenderò mai Perché mi fa veramente schifo ragazzi Odio il canne mozza Magari a volte mi capita di non vedere un determinato loot E me lo scrivete tutti quanti nei commenti Purtroppo capita Perché quando fai un commentary Non è sempre facile riuscire a vedere tutto quello che trovi in giro E poi ce ne possiamo anche andare via Tra l'altro come avete visto nello scorso video Io non ero a conoscenza del fatto che Avessero cambiato la modalità Quindi adesso non si può praticamente più prendere danno da caduta O almeno è veramente difficile prendere danno da caduta In quanto ti basta fare tre rampe in alto Che puoi già utilizzare il deltaplano Questa cosa a me non piace per nulla Guardate ora vi faccio vedere una piccola dimostrazione Per quelli che non possono giocare a questo gioco Puoi fare il deltaplano anche da tre singole rampe così A me ripeto non piace proprio per nulla questa cosa Perché la ritengo veramente strana Non dovrebbe esserci Il danno da caduta è parte fondamentale di questo gioco Sono abbastanza sicuro O almeno confido in quelli di Fortnite Che secondo me lo toglieranno molto presto Quindi magari l'hanno messa soltanto per questo aggiornamento Per scappare meglio dagli zombie In quel caso beh me lo auguro Ah e hanno aggiunto anche questi per fare dolcetto scherzetto Bellissimi quelli Quindi tutto sommato io sono abbastanza contento Degli aggiornamenti che hanno messo qua su Fortnite Non mi lamento assolutamente Io non vedo questo gioco da un punto di vista competitivo Perché semplicemente non faccio parte di quella categoria di persone Ecco Sta là sta là sta cercando di rigenerare Vedete che c'è uno zombie Aspettate Mi dispiace Mi dispiace veramente tantissimo Perché l'ho cleanappato praticamente Però non potevo fare altrimenti Uh ci avevo una bellissima arma Prendiamo gli scudini Ok Quindi non mi servono i medkit Preferisco di gran lunga avere degli scudi buoni Ok è tutto molto silenzioso Quindi questa non è la mia prima partita con la nuova modalità zombie Anzi in realtà ne ho vinte già un bel po' Credo ieri ne ho vinte tipo 5 o 6 Però non ne ho registrata neanche una Mannaggia Sto migliorando Sicuramente vi ne siete accorti Beh ogni tanto comunque mi capita di fare qualche fail gigante Ma non fa nulla Io la prendo molto sul ridere Anche se dovessi sbagliare Vi carico il video lo stesso Perché qua ragazzi siamo qui per divertirci Giusto? Mica per fare vedere che siamo i più forti del mondo Perché non lo siamo Non siamo proprio per nulla i più forti del mondo Qua potrei farmare centinaia di migliaia di materiali Veramente guardate qua Io non capisco perché non riesco mai a trovare i nabi nelle partite Proprio quelli che li veri dicono No questo è nuovo non sa giocare Non li trovo mai Io trovo sempre gente che più o meno comunque sa giocare Ok la stanno combattendo Se soltanto avessi uno sniper a quest'ora Lo potrei anche uccidere Allora se un altro abbiamo visto che quello c'ha un SMG Non mi ha assolutamente visto Potrei iniziare a sparargli adesso Però credo che ci sia dell'altra gente Ecco parli di nabbi e poi trovi uno che ha laggato Ma che cosa è successo? Ma poverino Ma Stava laggando? No non mi dire Allora sparano nel frattempo dalla sotto Tra l'altro ragazzi Queste nuove skin che hanno aggiunto Sono veramente spettacolari Allora di questo loot non mi interessa molto niente Sinceramente Sì non mi serve Quasi nulla Safe a bosco blaterante Interessantissimo ragazzi Sì 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 La facciamo una vittoria reale Allora siete carichi? Siete pronti? La volete vedere una vittoria reale? No? Perché no? Non credete in me forse? Forza tu Vedo uno Vedo uno Ok Sta là Sta farmando materiali Potrebbe essere forte questo Come potrebbe anche essere scarso Ovviamente non lo sappiamo Però io potrei anche fare una cosa del genere Perché tanto Avendo la possibilità di farlo Quasi quasi io lo faccio Sì sì L'ho andato Sta qua Ho preso due volte Boom Ok Ci ha fatto perdere un bel po' di vita E abbiamo fatto tantissimo rumore Quindi ora Ma darei un attimino a gambe Però prima Rigeneriamo un pochettino lo scudo Lo so Ho visto che avevo uno sniper Lo so Ho detto vorrei tanto avere uno sniper Perché adesso arriviamo in finale Che dite lo prendo? Mi sa che conviene prenderlo Sì dai Butto via L'SMG Prendo questo Ho detto Prendo questo sniper Ok perfetto Quindi adesso Mi devo ricordare Di non avere più l'SMG E non devo switchare nel 3 3 uccisioni Anche abbastanza facili Credo ci sia qualcuno Lassù Quindi facciamo un attimino Attenzione Non voglio di certo Fartemi ammazzare Come un pollo stupido Diamo un'occhiata Siamo rimasti In 9 Quindi ci sono Altre 8 persone Oltre a me Io sono comunque In safe Sono abbastanza sicuro Che la safe si chiuderà Più o meno In questa zona Però è ancora un rischio Perché manca tantissimo tempo Quindi non lo possiamo sapere Quello era molto vicino Come shot L'avevo quasi preso Sapete cosa raga Sapete cosa Oh sì Oh sì ragazzi Avete capito bene Voglio vedere dov'è Proprio per questo Volevo vedere dov'era Stai sbagliando Stai sbagliando Ok 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 Siamo mezzi morti Silenzio Silenzio Questa fight è stata Abbastanza imbarazzante Però non importa L'importante adesso È rigenerare la vita Giusto Ho assolutamente bisogno Di rigenerare la vita Abbiamo soltanto Armi leggendarie Quattro uccisioni Ne restano altri tre Per arrivare in finale Qualcuno sta planando qua Non voglio assolutamente Bloccarmi Quindi continuiamo ad uscire Allora Sento tantissimi zombie Sta arrivando la safe Quindi trono molto Io me ne vado via E me ne vado esattamente Quassù Pronti? Uno Due Tre Quattro Adesso saltiamo E via Posso farlo Quindi perché no Oh È quello No Non c'è nessuno Ok Ho sprecato Tantissimi materiali Però adesso siamo Qui su Quassù Teoricamente Nessuno dovrebbe vedere Non appena lo spot Ragazzi Potrei vincere questa partita Però vorrei capire Dove si trova Perché mica lo vedo Non voglio camperare troppo Però voglio cercare Di capire dove si trovi Prima di poterlo attaccare Sto sparando gli alberi Ok Si trova sotto di me Davanti a me Ok Mi sa che qua sarà una battaglia Tra sniper È un finto no skin Perché è palese Che sia un finto no skin Voglio provare a sniperarlo Potrebbe essere un grosso errore Raga Bevi 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 Ma sei pazzo? Sta salendo No Non ci credo Wow Complimenti Era bravo questo Sono stato ucciso Da un no skin Un palese Finto no skin Perché comunque C'aveva il mantellino Del battle pass Ragazzi Lasciate un bel mi piace Se vi è piaciuto questo video Mi raccomando Uh I palloncini Cosa? Gonfia palloni Per sfidare la gravità Aggiungi palloni Per salire di alta quota Eh? No Che cosa devono fare Ragazzi Lasciate un bel mi piace Se vi è piaciuto questo video Dal vostro candy è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao